Perché è così buio? All'inizio è sempre così. Che cos'è? È l'ultimo orsetto di gomma. Tutto ciò che resta di EPCC. Quindi? EPCC è finito? Sì. Quindi è stato tutto inutile? Permessi, bitches. Però tranquillo, fino a che avrai desideri nel tuo cuore, EPCC non finirà mai. E come faccio? Apri la mano, bitch. Qual è il tuo primo desiderio? Vabbè, dai, ti dico il secondo. Il mio secondo desiderio è... che è il mio secondo. Il mio secondo desiderio è il tuo primo desiderio. Grazie a tutti.